Ciao ragazzi e buongiorno. Allora, oggi voglio affrontare un argomento particolare. Perché? Innanzitutto perché è un argomento che è da un po' che volevo affrontare in effetti e merita veramente un approfondimento. Perché spesso si parla del viaggio astrale ma in un modo non corretto. E in effetti ringrazio la sorella Tuglia che ha postato un bellissimo video su un viaggio guidato, insomma, una meditazione guidata. E col titolo Viaggio astrale mi ha fatto venire in mente che era un argomento da approfondire. Allora, innanzitutto perché si crea confusione? Perché spesse volte ci si riferisce al viaggio astrale come a un viaggio nelle dimensioni della coscienza, però non è ben compresa la cosa. Allora, innanzitutto è bene dire che non è necessario il vero e proprio viaggio astrale per contattare le dimensioni spirituali. C'è una differenza tra viaggio astrale e viaggio interiore. Nel viaggio astrale c'è una vera e propria animazione sospesa, cioè il respiro si ferma, si ferma o comunque rallenta moltissimo. Quindi proprio c'è un... è come morire. No, nel vero e proprio viaggio astrale l'essenza vitale, chiamiamola anima, chiamiamola spirito, non importa, c'è proprio un distacco, come quando accade l'evento della morte. Ovviamente l'essenza rimane collegata tramite il cordone argenteo, questo cordone luminescente che mantiene l'essenza al veicolo fisico perché l'esperienza del corpo non è ancora terminata e quindi c'è questo filamento molto intenso, molto luminoso, che tiene l'essenza collegata al corpo. E questa essenza energetica poi può viaggiare attraverso le membrane dell'universo, le membrane della coscienza, in maniera corrispondente a quale è il centro spirituale dal quale il veicolo luminoso si è proiettato. Quindi se parte dal cuore o dal terzo occhio o dalla corona visiterà reami corrispondenti a questa frequenza. Quindi c'è proprio uno stato di animazione sospesa, cioè il respiro si ferma o comunque rallenta in un modo quasi da essere come se il respiro non ci fosse. E' bene capire questa cosa perché si confonde tantissimo il viaggio astrale con invece il viaggio interiore che non è un'esperienza di minore importanza ma è un'esperienza completamente diversa. Ripeto, nel viaggio astrale, vero viaggio astrale, il respiro si ferma, si ferma o va in uno stato di animazione sospesa quindi quasi come se si fermasse. L'energia luminosa fuoriesce da uno dei centri attraverso cui c'è la proiezione e rimane questo cordone filamentoso, argentato, luminoso che mantiene l'essenza collegata al corpo. Allora, per padroneggiare la proiezione cosciente del viaggio astrale ci vuole veramente, veramente, veramente tanta pratica e sarebbe bene impararla con qualcuno che è esperto nel farlo perché è un qualcosa di molto particolare. Perché infatti le proiezioni astrali vere, i viaggi extracorporei avvengono principalmente nello stato notturno? Perché nello stato notturno il cervello e il nostro essere scivolano lentamente in un modo naturale e progressivo prima dalle onde beta alle onde alfa, poi dalle onde alfa alle onde teta e dalle onde teta alle onde delta. Quindi c'è una progressiva diminuzione del respiro, rallentamento del respiro e il corpo naturalmente si prepara a questo tipo di esperienza. Infatti molti che hanno esperienze spontanee, extracorporee, le hanno negli stati di sonno oppure durante il coma, oppure insomma in situazioni analoghe. Il viaggio interiore invece è uno spostamento della consapevolezza in dimensioni più, diciamo così, elevate dell'essere attraverso i canali energetici, le fibre energetiche interiori legate alla nostra spina dorsale sottile che si diramano nei vari chakra. Quindi possiamo avere spostamenti nella realtà non ordinari, anche il viaggio sciamanico è un viaggio interiore che comunque è un modo di contattare i mondi spirituali, perché i mondi spirituali non sono separati dalla realtà fisica. La realtà fisica è assolutamente interconnessa ai mondi spirituali. La realtà fisica noi la chiamiamo fisica, ma è un mondo spirituale, perché la materia è energia. Quindi nel viaggio interiore c'è uno spostamento dello stato di coscienza, un'espansione dello stato di coscienza, per cui entrando prima in onde alfa, poi in onde teta, entrando nel tempo del sogno, come lo chiamano gli aborigeni australiani, o comunque alcune culture native, entrando nel sognare, proprio accediamo da coscienti a un'altra serie di realtà e dimensioni interiori, senza però dover attraversare una vera e propria esperienza di morte, come accade nel viaggio astrale. I viaggiatori astrali esperti, quelli che viaggiano veramente in astrale, sanno che c'è questa sospensione del respiro e sono poche le persone veramente capaci di fare questo tipo di cosa. A me è capitato, sono capitate esperienze spontanee, ma non sono un viaggiatore astrale che si mette lì e entra in uno stato di sospensione del respiro e va. Mentre il viaggio interiore è un qualcosa di assolutamente reale, è un qualcosa che una volta che si padroneggia, si impara a viaggiare all'interno dei nostri canali energetici interiori, che sono scie luminose proprio, ci porta in contatto con le realtà non ordinarie, le realtà delle guide, le realtà dei maestri, le realtà delle sfere angeliche, della terra interiore, insomma tutto è interconnesso a noi, però è una situazione sicuramente più sicura, meno difficoltosa e che ci viene più facile, senza dover attraversare questa esperienza che è diversa, che è completamente diversa. Quindi, cosa dire ancora, cosa si può ancora aggiungere? L'esperienza del viaggio interiore, che è diversa dal viaggio astrale, va approfondendosi, mano a mano che noi lo pratichiamo, mano a mano che noi meditiamo, mano a mano che noi impariamo a conoscere le porte interiori della nostra coscienza, si approfondisce e diventiamo proprio degli ossocavi, con quelli che gli sciamani chiamavano ossocavi o canne vuote, no? Diventiamo capaci, cioè, di interfacciarci con i mondi, con gli altri mondi, con le altre realtà, senza bisogno del viaggio astrale, cioè senza bisogno di un distacco corporale, diciamo così, perché diventiamo proprio delle interfacce tra questo mondo che viene chiamato ordinario, per noi ordinario, e altre realtà che sono proprio qui, sono proprio a un passo da noi, soltanto che gli occhi non li vedono, i sensi ordinarie non li vedono, ma sono qui, proprio a due passi da noi, quindi diventiamo capaci di essere proprio delle interfacce, infatti nelle tradizioni native i veggenti sono quelli che hanno questa capacità di entrare in stati, cioè di comunicare con le realtà invisibili, mentre sono, e quindi trarre informazioni utili, non informazioni inutili, perché le informazioni inutili non servono a nessuno, cioè le informazioni utili sono quelle che ci permettono di approfondire, migliorare, estendere la nostra comprensione e anche il nostro applicare in modo pratico la spiritualità nella vita quotidiana, perché tutto il resto diventa teoria e la teoria, rimanendo teoria, non è utile. Quello che è utile, una spiritualità completa, è quella che siamo capaci di trasferire nella pratica proprio, ok? Cioè in un modo proprio di esperienza concreta, cioè se abbiamo integrato l'esperienza della compassione, praticarla sempre meglio, se abbiamo integrato l'esperienza della gentilezza, imparare a integrarla sempre meglio, eccetera, eccetera. Quindi l'ossocavo è quello che fa da interfaccia con questi mondi senza bisogno di fare questa esperienza extracorporea. E quindi tutti noi possiamo accedere a queste realtà non ordinarie, perché tutto è estrettamente correlato, tutto è interconnesso, non c'è separazione tra le dimensioni e i nostri chakra sono porte che in qualche modo ci collegano a questa realtà, a queste varie realtà, a questi vari piani che sono meravigliosamente interconnessi da filamenti, fibre, canali sottili di energia interni a noi. Assolutamente sì, mentre sono svegli, certo, perché le dimensioni sottili sono qui, a due passi da noi, soltanto che gli occhi e i sensi ordinari non le vedono, ma ci sono. Quindi ricapitolo per l'ultima volta e ringrazio Tuglia che ha condiviso un video che mi ha ispirato a fare questo video, che in realtà volevo fare da un po'. Nel viaggio astrale, è vero e proprio, c'è proprio una sospensione del respiro, o meglio, il respiro si abbassa in un modo molto, diventa quasi impercettibile, proprio come accade nel sonno. Perché? Infatti molti hanno esperienze di viaggio astrale spontanee durante il sonno, perché siamo abituati a viaggiare mentre dormiamo. E quindi l'esperienza del viaggio astrale è così, c'è proprio una morte, è come morire, soltanto che i nostri corpi luminosi rimangono collegati tramite un filo, un filamento luminoso, che alcuni chiamano cordone d'argento, al corpo fisico, perché evidentemente l'esperienza del corpo non è ancora terminata. Mentre il viaggio interiore è uno spostamento della consapevolezza, è uno stato di coscienza espansa, nel quale noi viaggiamo, anche se non ce ne rendiamo conto, nei canali interiori del nostro essere. E quindi attraverso di essi, che sono collegati poi all'universo e a tutte le realtà tramite queste fibre energetiche, ecco che possiamo accedere a realtà non ordinarie, comunicare con guide, con maestri, eccetera. Noi abbiamo una quantità impressionante di filamenti energetici che partono dal nostro cuore e che si diffondono verso l'infinito. Noi siamo collegati alle stelle, siamo collegati ai pianeti, alle galassie, agli altri esseri umani, ai fili d'erba, e abbiamo queste interconnessioni che non vediamo con gli occhi, possiamo anche vederle in realtà, perché mi capita di vederle, perché poi quando la vista interiore si sviluppa, diventa anche più facile vedere con gli occhi quello che non vedevamo prima. Quindi questi filamenti, queste fibre energetiche che tintinnano, ne possiamo anche sentire, perché poi tutto appare in questa home, in questo suono vibratorio, tutto è all'interno di questo suono vibratorio, quindi possiamo anche sentire il suono di queste connessioni. Questi filamenti sono luminescenti e più noi facciamo in modo che quello che abbiamo appreso dalle realtà sottili, quello che abbiamo integrato nella coscienza diventa pratico, e più questi filamenti brillano. Perché ripeto, la teoria spirituale non serve a nessuno. Noi diventiamo bravi, insomma, superiamo l'esame quando qualcosa che abbiamo compreso lo trasferiamo in modo pratico. Quindi questi filamenti possono veramente brillare. Noi non ci rendiamo conto di quanto brillano questi filamenti quando, ad esempio, diciamo un ti amo, o siamo così felici, o quando benediciamo e auguriamo il bene. Ecco, questi filamenti brillano. Ed essi ci collegano a tutto, veramente a tutto ciò che è. Siamo tutti così interconnessi, no? Perché l'universo è interiore, ma è esteriore, è interiore ed esteriore. Non c'è interno, non c'è esterno. È un paradosso. Non si può spiegare. Il grande mistero è talmente inesprimibile che noi possiamo soltanto rimanere e cercare di spiegarlo nel modo più, cioè più, meno, ecco, meno complicato possibile con le nostre parole, ma in realtà non si può spiegare. Quindi Dio è un mistero insondabile. Quindi è interno, è esterno, è dentro e fuori, è sopra e sotto, è tutto intorno. Cioè, è inspiegabile. Però sappiamo che dentro e fuori sono apparenza, ma ci sono. Ci sono e non ci sono. È reale e non è reale. Sogno ed è realtà. Quindi è un gran casino. È importante, insomma, rimanere nel centro, nella nostra esperienza di mezzo, che è un mondo intermedio che ci dà la possibilità di fare una bellissima esperienza. Perché nella ruota di medicina, ad esempio, dei nativi americani, il quinto sentiero è quello della realizzazione del sé, dove si va verso l'alto, dove c'è la trascendenza, dove, insomma, c'è il senza forma. Poi c'è il sesto sentiero, che è portare tutto questo nel corpo. Quindi è un'espansione, se vogliamo, no? Riuscire a... Ma non è per forza che deve essere così, no? Noi camminiamo sentieri sacri. Non c'è un sentiero più alto di un altro. Ci sono sentieri e sentieri. Alcuni esseri si sentono chiamati verso alcuni sentieri, alcuni esseri verso altri sentieri. Ogni viaggio è sacro. Se c'è una cosa che io ho imparato, è che la spiritualità, quella vera, quella dove non c'è, insomma, che non fa male agli altri, ecco, è un cerchio. E il cerchio non ha dei punti più di inizio o di fine. Ognuno si trova a camminare sul suo sentiero sacro. Quindi ci deve essere rispetto per tutti i sentieri, per tutte le forme di spiritualità, che siano la devozione, che siano la meditazione, che siano gli extraterrestri, anche se poi, certo, dobbiamo sempre tornare alla nostra autorità spirituale, perché nel viaggio di ricerca di noi stessi, io parlo della mia esperienza, quindi voi fate un po', cioè, come vi sentite, no? Poi le mie chiacchiere possono esservi utili o no, a seconda di come le prendete, di come le sentite. Nella mia esperienza, a un certo punto, cioè, ci rendiamo conto che il viaggio spirituale qual è? Conosci te stesso. Quindi va bene le guide, va bene i maestri, ma alla fine torniamo sempre a noi. E come centro di partenza di tutte le nostre esplorazioni all'interno di noi stessi, e quindi di questo universo che possiamo vedere e percepire, sentire, proprio perché noi siamo. Quindi danziamo questa danza sacra della vita insieme a tanti altri, ma la danziamo in un modo unico, no? Quindi la danza è unica, è sacra e bisogna onorarla. Poi ci sono anche, ovviamente, sentieri dove, cioè, forme di spiritualità che cercano di obbligare gli altri o di imporre agli altri, ecco, queste magari non sono sentieri, sentieri, secondo me, veri sentieri, perché non si può obbligare qualcun altro a pensarla come la pensi tu. Però, vabbè, questo è un altro discorso. Chiudendo il discorso del viaggio astrale. Il viaggio astrale, quindi, è diverso dal viaggio interiore. Sono entrambe forme valide. Io preferisco, cioè, preferisco questa consapevolezza della comunicazione con i mondi invisibili in qualsiasi momento, senza necessità di fare questa morte, insomma, no? Perché alla fine, sì, 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 infatti, e la penso come te Elena, perché alla fine ci stiamo rendendo sempre più consapevoli di quanto tutte le realtà siano interconnesse tra di loro. Poi ognuno ha la sua modalità di... c'è chi è più... chi sente di più, chi è più percettivo, chi è più visivo. Ognuno di noi ha una modalità sua di sentire l'energia, di percepire la realtà sottile. Ma tutti, in qualche modo, siamo capaci di sentire le realtà invisibili. Anche chi mi dice, magari chi viene all'incontro e mi dice no, ma io non vedo niente, non sento niente. In realtà è soltanto che ci si aspetta di sentire e vedere nel modo in cui lo raccontano gli altri. O nel modo in cui il nostro ego ci si aspetta che debba essere. Cioè, magari in un modo straordinario, che in realtà a volte la nostra anima ci parla in un modo molto semplice, molto sottile, in un modo molto spontaneo, attraverso anche dei segnali. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare attenti a riconoscere come dire, i segni che è il nostro spirito, che è lo spirito, che è il divino, ci dà. Più andiamo avanti, più diventiamo bravi a cogliere questi segnali meravigliosi che ci arricchiscono. Io credo, e concludo il video che è stato già abbastanza lungo, io credo che un messaggio spirituale, una forma di spiritualità, siano effettive quando sono pratiche. Cioè quando ci danno una rivelazione che ci migliora in qualche modo, da un punto di vista psicologico, emotivo, fisico, spirituale. Quando invece sono soltanto teorie, intellettualismi, non servono assolutamente a niente, anche se magari in un certo momento possono anche servire, perché la mente ha bisogno un po' di deprogrammarsi per accogliere nuove cose. Però certamente alla fine la spiritualità deve essere pratica, perché se non è pratica diventa una montagna di libri, una montagna di seminari fatti, che poi rimangono lì, diventano piene di polvere, quindi a volte forse è meglio pochi strumenti che, no? Ad esempio, se si va a fare un corso di Reiki, faccio l'esempio del Reiki perché io lo insegno, quindi faccio il corso di Reiki, faccio l'esempio del Reiki. Se si va a fare un corso di Reiki, ok, è andata via la linea, lo ripeto. Faccio l'esempio del corso di Reiki. Se fate un corso di Reiki o studiate le tecniche di autoguarigione attraverso le mani, bisogna usarle, bisogna fare lo sforzo di praticare, perché ciò che ci rende bravi è la pratica. Lo spirito che è già perfetto, l'anima, l'essenza che è già divina, perfetta, viene qui per giocare, fa questa esperienza per giocare e imparare nella forma, fare qualcosa, no? Cose che nella teoria sa già fare, che conosce già. Ma è un gioco. Però, e se io voglio imparare a disegnare, perché si può imparare a disegnare, devo praticare, a meno che non ho un talento straordinario che ha tre anni, uno già bravissimo, però è raro, ma comunque anche la persona bravissima va incanalata, si deve incanalare attraverso un minimo di disciplina, chiaro che se voglio imparare a disegnare, devo necessariamente fare pratica. E allo stesso modo vale nella spiritualità. Se rimane soltanto un nutrimento per la testa, a un certo punto si diventa anche, secondo me, pigri un po' stagnanti nelle nostre cognizioni che non sono pratiche. I maestri hanno tutti detto che bisogna praticare. Quindi, adesso in questo video abbiamo divagato tantissimo, però spero che, ecco, chi si è unito alla diretta dopo consiglio di rivedere il video perché i concetti principali sono stati affrontati proprio all'inizio. Va bene, io vi ringrazio di avermi seguito, do un bacio a tutti voi, un bacio anche a Tuglia che è stata l'ispiratrice di questo video.